Dov'è via a mandare? Allora, ragazzi, mi concentro. Ok, torniamo qua, dai. Ok, vuoi tornare? Andiamo là, dai. Let's fucking go. Quando faccio tornei, torneini, calzini, ecco bomba, si allena, se concentra, esce la cattura. E mai non gioco in quattro terzi perché mi fa cagare. C'è gente. Gente? Sì. Vabbè, io ne vedo uno, due. È un team, dai. Appena troviamo un'arma buona, partiamo, si deve. Oh, no. Ok, man. Ok, rivolgo la cittura. Dio Dio. Sta salendo qua sopra? Oh, no, buono, buono. Lo trincio, lo trincio. Eh, che cazzo. C'è un altro, c'è un altro. Non t'acchi, diventami detto. Ah, ma da bianco. Se la fai? Morto. Non lo fai, ma. Dai. Ok. Io ho una scilla, una spara, no? Sì. Non ho un pallone di rete, non ho nulla, quindi... Vediamo cosa fare. Arrivano, eh. Volano. Eh, vai, tranquillo, dunque. Non è una maschiappetta, questo. Mmh, ok. Stai a pompa? Colpi, sì. Non ho, vero. Ok. Eccoli. Piano, piano, piano. Steal, 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 steal. Sono qui, eh. Sono, buono, buono, buono. Ok, sono un pirla di merda. Sì. Mi sta suicidando. Mi sta suicidando. Dov'è l'altro suo compagno, lo so? Non lo so, però poi c'è lo scarico, in questo mondo. E colpi del cieco? Medi? Mi sparò un medico, tío. Medi? Medi ce li ho. Dai. Così mi prendo la P90, mi prendo. Sì. Ebbene. Ok, intanto prendo sta cassa qua sotto e mi fullo di legno. Prendo la P90, lascio il catch e prendo il lanterranata. Se voleva proprio mi suicidare, tipo questo, non so. Sì, sì. Oddio, prendo questo, allora. Full è carico, porca troia. Eh no, allora vedi un po'. Eh vabbè, c'ho un... No, prendo il lanciare a Z4, bro. Dai, c'è un safe, mi c'è un safe. Ce l'ho visto? Qua sotto, ci riesci? Bello quello? Guarda, 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 scamba, scamba come... Io sto pushando in bocca. Ci saranno? GG. Ci lasci i razzi? Razzi, vieni. Non mi sono regolato, ragazzi. Sparavano da ovest con il cecchino. Eh. Lo sa? Eh, non lo so. Cazzo, se c'è una trappola qua mi arrabbiamo. Eh, volevo cercare un pompa. Cerco il pompa. Ah, boh, entravi nella schermata mia, comunque c'era Saki. Eh, verso le... Tra una oretta. Tra una oretta Saki. Dici che sta qua, uno? Penso di sì. Penso di sì. Penso. Allora, un altro... Aspetta, il leggendario, la desertica, buono. Che ne pensate di... Poi c'è lo scar leggendario silenziato. Eccolo! Orco, ma l'orco, chi cazzo è stato? Tu? No, sono loro! Non lo scopitate? Tra un po' Sto facendo, eh? Ti ho buttato la granata... La tigiamina, ti ho buttato. Si salva, mi sa che si salva. Ok, è morto, è morto. Stellina ma Nutella, ero italiano. Sì, è quello che mi ha fatto male lui. Voleva sparmi con quello. C'era il Barret, o sbaglio? C'era il Barret, sì. Preso il Barret, ragazzi. Non mi ricordo, purtroppo. Eeeh... Eh, quelli s'hanno messi una pacchia. Hai razzi? Cazzi, sei dieci. Però devi scendere. Eccomi. Che co... Aspetta la safe, aspetta la safe. Guarda, io s'ho rotto il cazzo. Vedete così. Sino un po' le palle. C'è gente? Non ho idea. Stavo di sì, cazzo. Mettiamo la safe? Eeeh, vanno loro, secondo me, la safe. Dove c'era il fight? Eh, vanno. Uuuuh! My friend! Allora. È uno spasso, soul. Devono venire... Ah, li stanno pushando, mi sa, eh. Loro? Guardali là sotto. Uno che saltella. Vedo, vedo. Può darsi, eh. Ah, è lì, è lì, è lì. Sessanta. Che, ecco, giù, è giù, è giù. Scendi, scendi. Allora. Eeeh, li abbiamo a settant'uno. E li abbiamo a sud-est. Ah, io pusho, eh. Ok? No. Ma che pushi? Guarda che siamo noi safe. Eh, mi viene spontaneo. Devi essere stupido. I'm sorry. I'm sorry, guys. Checco, stai buono. Mettiti in una zona abbastanza coperta. Che era solo shit. Stanno dietro, stanno. Ti ho capito che stanno dietro. Uh, top 3. 52 blu. Quindi... Ah, ok, lo vedo, lo vedo. 75 Checco, uno a 75. Io ho fatto 52 blu. Chi è? Arrivano sopra di noi. E' uno che ha preso il fantasma. 53 blu. Ok, comunque sta a un po' nord. Mio nord, mio nord, mio nord. Ah, ok, lo vedo, lo vedo. Arrivano altri? Arrivano altri. Retro. L'altro blu. Eh, mi do un culo adesso. Ha battuto uno. Sto toccato a te? Sì. Mi sa che vado ad essere quello che c'è andato, eh. Eh no, allora no. Vado sotto. Eccolo, eccolo, lo vedo. Lo vedi? Ma non era quello, erano altri due. Non lo so. La troia sua questa. Non lo trovo, cavolo. Dove cavolo è andato? Eccoli. Sta qua sopra. Sta sopra? Ah. Sta qua sopra. Quello è battuto. Ok. Altri due qua sopra. È morto, è morto, è morto, è morto. L'ultimo. L'ultimo sta qua sotto, insomma. Eh, no. Lì? Arrivo. Lancia patate, no. Che co? Eh. Aspetta. Ho l'ultimo, eh. Qua l'ho chiuso. GG. Già. Questo mi piace. Quasi quasi la metterei da canale. Ciao, YouTube. Ciao, YouTube.